Ciao a tutte carissime e carissimi amici e bentornati sul mio canale con questo appuntamento che voi troverete molto spesso settimanalmente per quanto riguarda la spesa dei terzali ve lo ricordate questo bracciale che trovai nella confezione di Malizia con il bagno doccia e il deodorante per chi mi segue guardate quanto è carino e poi prima di iniziare vi volevo far vedere questa maglia che praticamente io non indossavo da una vita e non so neanche io il motivo prima di mostrarvi il detersive una maglia che giaceva nel mio armadio ma non so il motivo di questo ed è questa maglia praticamente retinata io chiaramente da sotto ho un top è una maglia retinata di questi modelli morbidissimi che io amo e adoro e poi vabbè questo pantalone così a zampa e poi ho voluto mettere ho voluto indossare vediamo se ve la posso mostrare così no vabbè ho voluto mettere questo sanno no vabbè allora dobbiamo fare la ginnastica per far vedere le cose vi voglio far vedere appunto che cosa ho comprato questa volta non ho voluto proprio esagerare con gli acquisti per quanto riguarda il detersive perché ne ho tanti come voi presumo e ho voluto acquistare giusto le cose che davvero mi servivano chiaramente per chi mi conosce saprà che nei miei nei miei video spesa detesivi nei miei video spesa detesivi non può mancare la candeggina una candeggina che io adoro insieme allo smack gel con candeggina che alterno è questa qui io ve l'ho fatta già vedere in altre circostanze ed è la candeggina con detergente bref freschezza marina io l'ho pagata 1 euro e 25 ed è praticamente un litro questa è praticamente la candeggina che io adoro perché è densa è densoattiva ha anche del detergente praticamente come lo smack gel con candeggina da utilizzare anche per quanto riguarda il bucato quindi senza alcun problema cercate pavimenti profumati puliti disinfettati basta aggiungere una goccia o di bref o di smack gel con candeggina è andare ad utilizzare i miei detersivi per antonomasia che sono sia l'alba bianco che anche il fabuloso al profumo di lavanda c'è spettacolo allora questo profumo di questo detersivo vi durerà tantissimo in casa come l'alba e io lo amo ha un potere diciamo che la nuova formula ha un potere igienizzante oltre che profumante messo con questo c'è è praticamente una bomba atomica di pulizia casa disinfettata casa che veramente non avrà bisogno di nessun tipo di deodorante perché è il top quindi questi sono i consigliati della Anto ricordatevi per i pavimenti fabuloso e oppure alba bianco insieme al bref oppure allo smack gel con candeggina il bref serve da mettere nel water serve per lavare i sanitari per lavare i pavimenti per lavare l'acciaio che viene lucidissimo per lavare i piani cottura i piani da lavoro se non vi piace questa consistenza molto diciamo densa gelosa potreste tranquillamente da questo detesivo quello che farò io perché mi serve per lavare il balcone per non fare molta 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 schiuma prendete oggi è paperissima prendete uno spruzzino andate a mettere un po' di bref o di smack gel con candeggina allungate con l'acqua è giusto per dare proprio quel tocco ancora di più sgrassante una goccina di svelto e vedrete che il bagno i pavimenti piani da lavoro da cucina cose cose da giardino che stanno in balcone verranno praticamente uno spettacolo parola di Antonella poi ho preso bicchieri di carta ah questo qua l'ho pagato un euro e cinquanta questo qua il corona che non me lo faccio mai mancare poi ho preso i piatti di carta questa volta li ho presi i piani e io ho preso anche le bustine di spazi questa questo è un altro prodotto consigliato dalla Anto sono profumati una grandezza giusta perché questi qua sono praticamente da 28 litri quindi la media sono meravigliosi profumatissimi poi hanno praticamente i manici come se fosse una semplice busta tipo così e sono antiforo bene poi passiamo alle cosucce che ha preso la mamman allora la mia mamman ha voluto acquistare mangia polvere l'antistatico emulsio nutre e protegge mobile e porti in legno con cera d'apide la sutter io non amo questi spray questo qua l'ha pagato anche un bel po' adesso non mi trovo lo scontrino comunque sulle 4 euro quasi poi ha preso il deodorante felce azzur che l'ho fatto scoprire io buonissimo questo è ottimo perché è uno dei pochissimi deodoranti per ambienti ad effetto asciutto ad effetto dry quindi voi praticamente lo andate a spruzzare non ci sarà caduta umida sui pavimenti lo si può spruzzare sui divani sulle tende eccetera eccetera infatti formula senza acqua ed è ottimo a 1 euro 65 io non lo sto comprando più perché vi devo essere franca e sincera sto utilizzando i campioncini per profumare in casa quando uso un detergente che non profuma molto per i pavimenti poi ha preso il neutro roberts questo l'ha pagato 1 euro e 40 antibatterico con tè verde sapone liquido dermotestato azione igienizzante possiamo igienizzare è buono profuma poi le classiche vaschettine della ottimo queste qua ma come odore feccia azzurra con il coperchio per cuocere congelare riscaldare e trasportare e poi come ultima cosa come ultima cosa la mamman ha voluto i piatti questi qua fondi di carta del di plastica della più shop a 2 euro è 39 bene questo è il video spesa detersivi fatemi sapere che cosa ne pensate del mio del mio look è di questa maglia che non riuscivo praticamente cioè non riuscivo a collocarla con altre cose ma non capisco non riuscivo a collocarla che cacchia di ma vabbè la vedevo ma non e non la mettevo mai e adesso invece io l'ho voluta indossare bene questo è il video un bacione e mi raccomando seguite sempre i consigli dell'anto perché non vi pentirete vi troverete e sempre muy muy bene ciao ciao